Musica Musica I tempi di decorrenza sono gli stessi, i spazi sono gli abbiasi giocchi. L'unione di due moti, quello risultato, lo scritto iniziale, e quello verticale, lo capitato, quindi ecco qua la nostra parata. Ma lei è paradossico? Anche se io lo tocco leggermente, guardate, sembra sfidare quella che è la cosa di inizialità, che sembra andare in inizialità. L'elettricità era la più nuova delle scienze. Con macchine come queste venivano organizzate anche le serate elettriche. Si comincia a sentire un rumorino, sentite? Bravissima, guarda, tutte funzionano, guarda che bravo. Galileo, dicevo soltanto, che ce lo dice anche da un punto di vista matematico. Bene percorso, uno spazio più tre spazi. Questo qua è un termometro infingato detto a ranocchietta. È la forza qua del 32. Legavano la ranocchietta qua al polso del paziente con questi lacciolini. Ora, se il nostro cala alla febbre, com'è la temperatura? È caldo, è caldo. Grazie a tutti.